salve a tutti amici sono paolo fiat oggi faccio un video molto veloce diciamo un video giusto per tenere giornate di un problema che ho finito io a un problema molto grave che c'è soprattutto in lombardia che si chiama pupilla japonico pupilla giapponica volete chiamarla insomma con le altre giapponese di schifo proprio veramente una cosa schifida veramente adesso io sto camminando questo qui è una pianta di vite bellissima è una pianta abbastanza bella e sana se fossero tutte così zero problemi invece io camminando cosa faccio guardo qua dico che bella che è boh guardo qua dico guardate che bella che è così più o meno ma se io vado a guardare le parti sopra guardate qui c'è la pupilla poi vedete quell'insettino a di merda scusate il termine di schifo un insettino schifo schifido adesso si sentono volare molto queste cose qua adesso fate questa quest'altro guardate questa quest'altro che si sta sta acqua da qualche parte sto schifo comunque si sta facendo vedere questo si vede dove hanno mangiato tanto e se questa volta lavorando che va bene adesso vediamo se riusciamo a vedere un po di danni che fanno vi vediamo una vita che vi fate dei danni che fanno ok qua vedete qua ce ne sono parecchi guardate che roba e faccio un po di zoom sempre guardate quanti c'è nessuno che facciamo pupilla japonica allora come si può combattere la pupilla japonica mentre vi faccio vedere i danni che mia stanno provocando la vita a te quello qua ecco qua guardate qua potete vederli potete vederli tantissimo questa pupilla japonica speriamo che mi sentite ma non è un programma questo video sto facendo col telefono così ecco qua guardate quante ce ne sono qui guardate quanti ce ne sono qui insetti malefici ok eccoli qua guardate qui ci potete vedere in diretta questa pupilla japonica allora che danni fa la pupilla japonica nel nel vigneto possiamo dire ecco nelle nostre vite che dopo ovviamente ecco la cosa che ancora la pupilla japonica qui scuola da facere lì sopra lì c'è ancora la pupilla japonica qui ce n'è ancora avete vedi i danni che fanno mangiano tutto ecco quindi io adesso non sono qui guardate qua ce ne sono tantissimi danni comunque ovviamente non c'era niente lamentarti bisogna intervenire allora prima di tutto adesso non c'è un volo di pupilla japonica che fa paura allora prima di tutto io non ho esperienza su questi pupilli japoniche e generate quanti ce ne sono qua guardate che roba ok allora vi faccio vedere il mio vigneto si estende così a sono tre filari da 150 106 150 da 100 metri uno è un po più lungo fa conto che sono 100 200 sono 400 metri di vigneto in poche parole in tutto ecco allora cosa fa la pupilla japonica in sé la pupilla japonica va a mangiare tutte l'apparato fogliare e via dicendo ecco diventa sempre più aggressiva qui vedete qui vediamo se c'è ne un ecco qua quasi in diretta ecco va a mangiare tutte le foglie di solito parte delle punte alte perché di solito le punte alte meno disturbata cosa che comunque ovviamente che mangi la parte alta la parte bassa della pianta non ci interessa niente non ci interessa eliminarla come si fa avete qua 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 in alto nella parte più alta del vigneto c'è una parte più su sta mangiando molto meno però ovviamente no beh sta vendendo meno a te qua ne sono anche quali anzi farvi vedere e comunque mangiano le foglie ecco sono peggio di per dirvi per dirvi sono dei divoratori totali ecco come si fa combattere combattere purtroppo ahimè rimedi tanti rimedi non ce ne sono in questi anni io ho utilizzato di protec in cui in l'anno scorso che c'era tanto infestazione ho dato dei prodotti chimici li mettevo insieme col verdammio zolfo è un po' un insetticida è un insetticida un contatticida chimico purtroppo io non vorrei utilizzare prodotti chimici ma siamo obbligati se no facciamo la fine di lasciare tutta la agli insetti e noi possiamo anche anche fare lavori per niente qui ovviamente stanno salvando le telepiante poi stanno salvando ecco quindi io diciamo che quasi stanno salvando quando ne vedo molti anche se sento il volo di qualcuno comunque dovrò fare il prodotto qui circa mi vanno via 20 litri ogni filare quindi 20 40 più o meno facciamo conto un 60 litri di acqua dovrò fare mi prenderà la mia pompa e farà il prodotto allora prodotto che farò in questo caso adesso non lo faccio adesso che sta registrando video domenica comunque lo andrò a prendere sono prodotti adesso non vi dico le marche niente perché neanche io non so quello che riesco a trovare in giro comunque dove andare a vedere sì che sono dei prodotti chimici per contatto quindi sono dei contatticida dei insetticidi quindi insetticida contro il coleottero che è questa pupilla japonica e il cindaco possiamo andare a mettere delle trappole a ferroormone certamente però il mio ragionamento dice questo la trappola a ferroormone quando noi contiamo sul nostro vignetto più di 200 esemplari non fa effetto secondo me per il mio ovviamente dicono in lombardia dicono sì fai effetto dicendo sì fai effetto però quante trappole devo comprare devo comprare almeno almeno c'è devo comprare almeno 3 4 trappole non so 5 trappole se mi costano 30 euro a trappola con il ferroormone compreso e tutto quanti sono di spendo 100 euro invece con un prodotto chimico purtroppo in questo caso prodotto chimico adesso io sto studiando ancora se il piretro che è un prodotto biologico può funzionare per questo per questo pupilla japonica farò proverò a vedere comunque un prodotto chimico ahimè costa 16 15 euro con 16 15 euro io posso fare un etolitro di acqua posso fare quindi un etolitro sono 100 litri di acqua se non sbaglio scusate sto pensando ecco faccio 100 litri di acqua con questi 100 litri di acqua e faccio tutto faccio il trattamento del mio vigneto ben due volte più o meno diciamo così perché tanto comunque è così e va a contatto quindi non crea non crea diciamo anche se è chimico la cosa positiva che non crea non crea risidui ma soprattutto non crea problemi per altri animali ma soprattutto anche per la vita in sé perché cosa succede io trovo il mio coleottero che sta qua passo con la mia pompa a bagnare quando l'ho bagnato lui muore e quindi in poche parole cosa succede che non è che bagno la foglia e fa residuo sulla foglia no non è una cosa che entra dentro la foglia non è un prodotto che entra dentro la foglia quindi quando è entrato dentro la foglia con l'ottro mangia e muore no è un prodotto per contatto un contatticida purtroppo bisogna usare anche prodotti chimici io non sono molto dell'idea di usare prodotti chimici però purtroppo bisogna farlo ecco questo è un video per aggiornarvi questo è il problema ditemi voi come se voi avete riscontrato qualche problema di critico le otto anche su altre culture ovviamente sfruttetti o meletti orti queste cose va avanti vi faccio vedere per l'ultima volta la pupilla japonica e vi dico semplicemente una cosa bisogna combatterla per diminuire la specie cercare di ogni anno che passa cercare sempre di diminuire la specie per dopo provarci fra un po di anni e non dover più trattare ecco adesso io farò così se io avessi avuto tre o quattro pupilli japoniche sul vigneto aveva comprato una troppa per poter eliminarle ma dato che l'infestazione è alta si fa trattamento chimico stavolta purtroppo non si può fare altro niente io ho fatto questo aggiornamento niente per questo video è tutto nel prossimo amici da paolo fiat